Sarà un lavoro per le spalle, cioè un lavoro combinato per le spalle di alzata frontale e laterale insieme. Cercate di non arrivare a toccare le gambe. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. arriviamo a 100 e poi si torna indietro quindi si ritornerà a 20 grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.